Salve a tutti, Watchkebari, io sono Super Joe Master ed oggi bentornati su Five Nights at Freddy's Oggi affronteremo la vera, la vera notte ragazzi, la vera notte, la quinta notte di Five Nights at Freddy's Quindi adesso andiamo ad affrontare la quinta notte, vi avverto che sarà veramente molto molto difficile Un'altra cosa, in chiarità oggi è uscire il secondo episodio di Super Mario 3D World Però ci sono stati alcuni problemi, cioè io l'ho fatto gli episodi, ho fatto il secondo e il terzo episodio Ma ho qualche problemino, ma vabbè, lasciamo perdere Nel frattempo continuo la mia let's play di Five Nights at Freddy's Quindi adesso direi di andare ragazzi Ok, siamo pronti ragazzi Ok, dove sono i maledetti qua? Gli animatronics sono veramente indemoniati Al... veramente tantissimo Guardate, il 97% batteria di già E già Cica si è mossa Quella Cica odiosa Ehm... Ok No, aspetta, aspetta Dove sono gli animatronics? Foxy? Cosa? Sei già mosso Foxy? No, sento Freddy Ragazzi aiuto Sto... Oh Bobonni Che ti succede? Perché avete quei Twerking della testa? What? Cosa? Ragazzi no, no ragazzi La quinta notte veramente ti fa impazzire Tanto non uscirò mai a finire la quinta notte Cioè La prima tentativa è una cosa impossibile in pratica Bisogna fare un sacco di tentativi No ragazzi Siamo appena partiti già Dov'è Bonnie? No ragazzi aiuto Aiuto, aiuto Per favore Ok Dove siete maledetti? Oh Brutto maledetto di un Bonnie Non ti darò mai le carote Oh Freddy nel bagno Ok, apri la porta Madonna ragazzi Che ansia, minchia Chica è nella cucina Ok Ma io ho paura che mi arrivi Freddy Dov'è Freddy? Sento sempre la sua risata Cavola cionina No ragazzi Aiuto Camera disabilitata Ok Ciao Chica Dov'è chi sono gli altri? Ok, dov'è Bonnie? Ok, Bonnie è qui Fox è qua Chica è qui E il problema è Dov'è Freddy? Freddy Dove sei? Dove sei Freddy? Avanti su Freddy Lo so che sei qui Non lo vedo ragazzi Non vedo Freddy Dov'è Freddy ragazzi? Dov'è Freddy? Dov'è? Oh no 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 Oh no 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 Ancora Bonnie è qui Sì che è qua Ma Freddy Dov'è l'orso? Dov'è il boss della pizzeria? Eh scusate Eh scusate Non Dov'è Bonnie? Bonnie sei qua Oh Mannaggia te Bonnie Mannaggia te Ok Continuiamo a vedere un po' Ciao Foxy Sono le quattro Ragazzi Ok Lui se n'è andato Perfetto Ok Dov'è Chica? Non lo so Sì vabbè se riesco a completare La quinta notte ragazzi C'è È una roba proprio Esagerata Diciamo Oh qua c'è Chica Perfetto Vero che devo controllare un po' Foxy Perché Foxy? C'è veramente Foxy è partito subito Mamma mia ragazzi Perché? Che sta succedendo? Ehi Non succede niente Vero? Ma che Eh scusate Ho bisogno Ho bisogno di vedere Che sta succedendo Chica è qua Bonnie è qua Oh mio dio Non l'avevo visti Quegli occhi No Non dimmi che Freddy È vicinissimo No ragazzi No c'è Ancora 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 Bonnie eh No ragazzi Aiuto No Bonnie Maffanbrodo a te Bonnie No 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 Dai No ma che Zero di batteria Freddy 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 non mi venire a prendere Freddy ciao Belli i tuoi occhi eh Gli occhi azzurri eh Aiuto Bella la musichetta Non ci credo Cosa? Ho completato la quinta notte al primo tentativo Non ci credo Mamma mia Cosa? Com'è possibile? Good job Mike Schmidt The End Ho vinto Ho vinto No vabbè ragazzi Non ci credo Non ci credo Ho andato pure una stella Vi giuro ragazzi Le altre volte che giocavo a Five Nights at Freddy's Non riuscivo mai a completare la quinta notte al primo tentativo Non ci riuscivo Mai Vi giuro Non ci credo ragazzi Una stella Abbiamo pure sbloccato la sesta notte ragazzi A quanti minuti siamo? Sono solamente a sei minuti ragazzi Cioè è veramente una roba È una roba assurda ragazzi Veramente una roba assurda Non ci credo Non ci posso credere Mamma mia Che figata Comunque Prima di andare a vedere la sesta notte Che ovviamente È una cosa proprio da imbestialire Allora io ho tantissimo Come avete notato Qui sopra qui c'è scritto La scritta Shop Ecco la modalità Shop È disponibile solamente per la versione Per il telefono Come vedete qui abbiamo Questi tre pupazzi di Freddy, Bonnie e Chica E voi potete anche comprarli Comprarli con i soldi veri Un'altra cosa Però Non vuol dire Che se voi comprate qui Il pupazzo di Freddy Freddy poi a casa vi arriva il pupazzo di Freddy No Se invece comprate il pupazzo di Freddy Bonnie e Chica Avrete poi Nel gioco Nelle notte di Final Fantasy Freddy Nel tavolo dell'ufficio Avrete questi tre pupazzettini Però se comprate poi Il chat mod Che costa un po' di più rispetto Ai pupazzi Avrete la possibilità di vedere Dove sono gli animatroni Quindi vi comparano tipo le facce Dei vari animatroni Così potete capire dove sono Se in pratica Tipo citare E barare Ma Vabbè In pratica Questa cheat mod Sarebbe per la gente Che ha paura E vuole sapere dove sono Diciamo Però vabbè Ok Torniamo ragazzi Adesso andiamo a affrontare La sesta notte Non so se riuscirò A finirla Anche adesso Ragazzi È veramente Una cosa bellissima Finire la quinta notte Al primo tentativo Ragazzi Adesso Adesso la sesta notte Ragazzi La sesta notte Ragazzi Speriamo tanto Di riuscire a fare qualcosa Di decente E si parte ragazzi Si parte Siamo la sesta notte Ragazzi Qui Gli animatroni Sono i diavoli In persona In pratica Ok Bonnie Si è già mosso Perfetto Ecco qui ragazzi Non c'è nessuna chiamata Come hai fatto Ad arrivare già qua Come Aspetta Ok ragazzi Sono Mi sono Sono già spaventato Ragazzi Sono già Da cica La nostra cica Ragazzi La nostra cica Bella Avanti C'è qualcuno Ok cica è tornato indietro Foxy Bonnie Cica Freddy Ah Bonnie è di nuovo qua Ragazzi Cica è In cucina Freddy è qua Avanti Bonnie Non farmi aspettare Ehm No Non fatemi Ehm Scusate Ehm Ehm Sentite ragazzi Ma Dov'è Bonnie Bonnie Dove sei Ok Ok Bonnie In fondo Aiuto Allora Al momento Ho ricevuto solamente Un solo Jumpscare Da cica E meno male Aiuto 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 Fammi dimmedere Dove sono gli altri Ehm Bonnie Oh C'è pure cica C'è pure cica No 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 Ragazzi aiuto Aiuto Cica Bonnie Cica Bonnie è tornato indietro Cica 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 No Ciao Foxy Eh freddy Dove è freddy Oh c'è bonnie C'è cica C'è bonnie No 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 Non mi va No non riesco più a chiudere Non riesco più a chiudere No No se guardo le telecamere Poi muoio E se non guardo le telecamere E non controllo Foxy Poi lui mi prende Non posso pure guardare Da questa No ragazzi vi giuro Non si chiudono le porte Sto continuando a toccare No ragazzi Sono morto Sono morto Aiuto Non riesco ragazzi Non riesco Sì vabbè ragazzi Se arrivo alle 6 In questo modo Non ci riesco Metto le telecamere Aiuto Aiuto ragazzi Aiuto Per favore No ragazzi Sono stato appena Sconfitto Dall'orecchio di Foxy Che bello ragazzi Che bello Wow bellissimo Ma Sono morto Sono morto Game over Ciao Freddy Quelli lì sono occhi di umani In realtà Oh mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Facciamo un altro tentativo ragazzi Poi farò anche un video La sesta notte Sperando che riesco a completarla Perché È veramente tosta Vediamo un po' Vediamo un po' Come fare Deve stare molto attenti Al power left Ok Io so che siete qua Brutti mascalzoni Io vi sconfiggerò Vi sconfiggerò Brutti animatronics Dove siete Dove siete Io vi vedo Io vi sento Io vi guardo Io vi ascolto Ciao Chica Allora Vediamo un po' Eh Ok Freddy Freddino Allora Al momento Chica e Foxy Mi hanno fatto il jumpscare Vabbè non avete visto Foxy molto bene Ma Mi ha fatto comunque È stato lui a farmi il jumpscare Allora dov'è Bonny Bonny è qua No Per niente Non li vedo Che belle le padelle di Chica Ciao Bonny Eh Volevi Bonnitto schifosino Ok Bonny è tornato indietro Apri la porta Perfetto Chica è in cucina Foxy non ha ancora aperto Il Palette Cove Ah Quanto ci godo Di stare lì Nel frattempo Dove è Freddy Condona a sentire La sua risata Che mette un'ansia Della Madon Rich Ciao Chica Sei tornata Avanti Chica Mostrati No Lei preferisce tornare indietro Lei è una che trolla Ma trolla proprio tanto Ok ragazzi Cosa succede adesso Bonny di nuovo Brutto Bonnitto Chica è qua Siamo con i bellissimi Bonny è tornato indietro Apri la porta Perfetto Ok Sembra che sta andando Meglio rispetto a prima Però qua ci Oh Freddy Si è avvicinato Foxy è qua Chica No 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 Aspetta Chica di nuovo qua Aiuto Aiuto Posso vedere telecamere Bonny Brutto maledetto Di un bonnetto No è Freddy No ragazzi aiuto Freddy Freddy Devo controllarti Come Foxy Devo controllare negli occhi Ciao Freddy Di nuovo Bonny Ragazzi Di nuovo Bonny Freddy Devi andartene Vattene Vattene anche te Bonny Ragazzi aiuto Sto sprecando Troppa batteria Ok La porta Vattene Freddy Devi andartene Ah Aiuto Freddy Vattene subito Mi stai facendo sprecare batteria Freddy Vattene Ragazzi Sono morto Freddy Devi andartene Vattene Freddy Vattene Freddy Devi andartene Vattene Subito Freddy Ti prego Devi andart Mannancia Santa No devo Aprire la porta Sono morto E vabbè Ci ho provato Ci ho provato Ragazzi Ci ho provato Vai Freddy Mamma mia Ragazzi Wow Il jumpscare Più veloce Del mondo Veramente Perfetto Eh sì Non ho vinto La sesta notte Peccato Però Siamo arrivati Alle 4 E questo è un bene Ragazzi Questo è un bene Game over Di nuovo Eh vabbè Vabbè ragazzi Quindi questo è tutto Per questo Quarto episodio Di Five Nights at Freddy's Abbiamo completato Veramente alla grande La quinta notte E abbiamo frontato Per due volte La sesta notte Ma Non ce l'abbiamo fatta Comunque Vabbè ragazzi Quindi tutto Vabbè ragazzi Questo è tutto Per questo Episodio Di Five Nights at Freddy's Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E noi Ci vediamo Ad un prossimo video Muah Ah 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 Freddy Feds Bear Pizza Blech